L'azienda sanitaria provinciale di Ragusa annuncia l'avvio delle procedure di stabilizzazione per 131 infermieri. Con una delibera pubblicata l'8 dicembre, la direzione strategica dell'Asp Iblea ha infatti indetto due procedure. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scadrà invece il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dei due avvisi all'albopretorio online, nonché su amministrazione trasparente sezione bandi e concorsi del sito istituzionale dell'Asp. Le procedure di stabilizzazione fanno seguito a specifici avvisi di ricognizione riservati al personale precario del comparto sanità. La prima procedura consente alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato il personale infermieristico che abbia maturato alla data del 30 giugno 2022 o che maturerà entro il prossimo 31 dicembre tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto, alle dipendenze dell'amministrazione che ha proceduto ad assumerlo. Si tratta di una misura che riduce il ricorso ai contratti a termine e utile a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato. La seconda procedura è invece orientata a valorizzare le professionalità del personale infermieristico che ha prestato servizio con un rapporto di lavoro a tempo determinato subordinato anche durante l'emergenza Covid e abbia maturato 18 mesi complessivi di servizio, anche non continuativi, entro e non oltre il 30 giugno 2022, di cui almeno sei durante le fasi di emergenza Covid che il legislatore ha individuato nell'arco temporale compreso fra il 30 gennaio del 2020 e il 30 giugno del 2022. Le procedure serviranno a coprire un fabbisogno totale di 131 unità, garantendo l'accesso all'esterno per la copertura del 50% dei posti restanti come previsto dalla legge e confermano, ancora una volta sottolinea all'ASP, la sensibilità dell'azienda verso le aspettative di tale personale.